L'opposizione consigliare di Capodorlando ha organizzato una conferenza stampa a Palazzo Europa per dare solidarietà e sostegno all'avvertenza dei lavoratori a tempo determinato che lavorano al Comune. Presenteranno una mozione perché venga discussa in Consiglio Comunale, la mozione che ce l'ho qui tra le mani per chiedere tra gli altri di corrispondere nell'immediato ai lavoratori il pagamento delle mensilità retrate dal mese di novembre 2016 fino a marzo 2017, compresa la tredicesima mensilità. Solidarietà, sostegno e puntualizzazione di alcune circostanze. Chi lavora ha diritto ad essere pagato, ad essere regolarmente pagato, ad avere versata la propria contribuzione e a svolgere seriamente il proprio lavoro. I lavoratori possono essere pagati in questa situazione al momento? Immagino di sì, altrimenti l'amministrazione venga in aula così come abbiamo chiesto, rassegni le criticità di cassa e ne discuteremo. Il Consiglio Comunale è la sede ideale, la sede istituzionale preposta ad esaminare il bilancio. Lei ha chiesto che i consiglieri comunali votino con appello nominale. Questo glielo confermo, lo chiederò in aula nel momento in cui il Presidente Calipò iscriverà la mozione. Non vorrei che la situazione in questo comune degenerasse perché le proteste dei precari e con tutte le attività per il recupero di quelle che sono le mensilità retrate naturalmente costituiscono un aggravio per le casse del comune. È un fatto politico ed è un fatto al quale bisogna trovare un argine politico. Lei diceva che questo problema di cassa non è un problema che è emerso adesso, è un problema che va nel tempo indietro. Intanto ci sono i soldi per pagare il personale, decida l'amministrazione cosa ne vuole fare. Non siamo noi a dover dare un atto nella scelta della spesa. È naturale che se non dovesse avere la capacità finanziaria per pagare tutti gli stipendi arretrati dovrà dare una giustificazione.